Buon pomeriggio a tutti, benvenuti sul canale Tfiamme Juventus e benvenuti da Riccardo. Prima di cominciare il video volevo ringraziare come ha fatto il mio carissimo amico Juventino Mascherato per quanto riguarda la live di ieri sera di cui abbiamo avuto un bel confronto con i tifosi interisti. Cordiale, a volte acceso, ma comunque è stata una bella serata e di questo ne posso dare sicuramente segno e che sicuramente non sarà né prima né l'ultima. E quindi ringrazio. Però io oggi volevo parlare delle dichiarazioni che ha fatto Bonucci prima del derby. Caro Bonucci, ma carissimo Bonucci, a parte il fatto che tu sei andato via a Juventus perché comunque... lasciamo stare, poi la famosa bocca che quando tu hai segnato contro la Juventus, quando eri al Milan, hai veramente superato te stesso. Adesso tu in intervista dici che io amo la città di Torino, che in casa nostra siamo tutti giuventini, che io ho solamente una fede che è quella juventina. Ma adesso, scusate, ma ci prendi per il culo tutti? No, forse magari... Cioè, fammi capire, fammi capire, carissimo Bonucci. Tutte queste parole, queste frasi dolce e miele per far capire che sabato contro i derby di Torino sarà una squadra vincente con la speranza di... No, 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 Bonucci, Bonucci, non ci siamo capiti. Forse non ci siamo capiti veramente bene. Tu devi... Se dovessi per caso entrare in campo, tu non devi pensare a fare le cose. No, tu devi fare il tuo ruolo, che è sempre... Che, almeno, ti stanno pagando fior fior di milioni. Fior fior di milioni. E dare un pochettino, tirare fuori un po' le palle. Te e tutti i tuoi amici di compagni, di merenda. E non ti è che mi fai questi articoli sui giornali, dicendo appunto che comunque è un periodo difficile per voi. No, non è un periodo difficile per voi, perché a voi si viva male, lo stipendio lo prendete lo stesso. Siamo noi tifosi che ci rompiamo il coglioni a vedervi giocare di merda sul campo. Chiaro? Chiaro, Bonucci? Quindi, basta. Piuttosto, la prossima volta, invece di fare gli articoli giornali, stai zitto e muto e dai di quello che è veramente la tua fede, Juventini, in campo, che fino adesso è veramente fatto cagare. Quindi, caro Bonucci, io sabato, se ci sarai in campo, voglio vedere effettivamente questa fede, questa voglia di ripresa da Juventus, a livello, siccome tu sei il capitano, di unire questa squadra. Voglio vedere fino a che punto arrivi. Carissimo Bonucci, fino alla fine, Forza Juve.